Com'è andata? Io personalmente ho dato il massimo, tutto quello che potevo dare, di più non ne avevo. Penso che sicuramente sia un'esperienza che ti cambia, cambia tanto e tutto qui, penso che sì. Tutto sommato si è andata abbastanza bene, ho dato il massimo, in quattro anni mi sono allenata più che potevo, per arrivare al meglio, arrivare più preparato possibile, vedremo. Che cosa ti ha sorpreso di questo borsa? Tantissimo, il fatto che non è solo la tecnica per farla fare, ma proprio tutto l'aspetto della didattica, come si insegna, le progressioni varie che puoi fare con uno studente, indubbiamente i vari strumenti che ti vengono dati dall'istruttore, che penso che devono essere forniti a qualsiasi istruttore, compreso gli insegnanti scolastici, molte volte, personalmente, a scuola mi sono provati con gli insegnanti che erano poco preparati nell'insegnare, non tanto nella loro materia, ma proprio nel modo in cui si insegna, nel modo in cui ci si rapporta a un allievo. Sicuramente è un corso completo, dalla A alla Z, ti dà al massimo tutte le possibilità, diciamo, ti vengono date tutte le possibilità per insegnare, speriamo, al meglio, quindi sicuramente professionalissimo da quel punto di vista. Che cambiamento ti porti a casa da questa esperienza? Beh, più consapevolezza di me stesso, più consapevolezza delle mie capacità come persona, anche un po' più calma, ogni tanto non lo sono, quindi sicuramente quello, più consapevolezza, più consapevolezza del fatto che ce la puoi fare, che puoi dare il massimo anche quando pensi di non averne veramente più, ne hai ancora un po', è sicuramente un lato umano che è per me fondamentale e in cui non ci sono ritrovato tanto e per questo ringrazio veramente tanto Ilia perché, a dispetto di quello che tutti possono pensare, in realtà è un gran mattacione e ci tiene tanto, i suoi studenti ci tiene che vengano fuori preparati e al massimo delle loro capacità, ci tiene a farli brillare diciamo, anche se ogni tanto può essere un po' duro, un po' tosto e anche un po' qualche mazzata sui denti, lei crede, però tutto sommato alla fin fine, amma!